Milito! Milito! Uno, due e tre! E' inclassibile, lo vedete, l'Inter sale a 32, il Milan scende a 37, la Juve sola al comando. Viva God! Viva God! Viva God! Sta polemizzando da com'è stato il gol. Zanetti difende un bel pallone, poi da questa posizione fa partire un lancio centrale che sembra, e la verità un po' sbilenco, e esce Abate per intercettare il pallone, sbaglia clamorosamente l'intervento, la palla arriva a Milito, Milito entra in area e da questa posizione fa partire un diagonale millimetrico, pensate che la palla passa a un centimetro dalla punta del piede di Abbiati, incolpevole, sbatte contro il pallo interno e finisce in gol, mancano pochi secondi a fischio finale. E' finita!